Che succede qui? E mo che è quello? Monitor nero, cosa ci fanno vedere adesso? Penso che sia un'arma letale per il mio cuoricino. Ciao nannino! Sono in tua vita! Mi manchi tanto, veramente sento tanto 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 la tua mancanza, però sono contentissima che stai facendo questa esperienza che ti rende felice. Ti amo! Carmi, pensa che Simona in questi giorni va a mananne, quando torna nanne? Però ti dico, non ti azzardare a tornare prima della fine della trasmissione, capito? E un'ultima cosa, forse non te l'ho detto tante volte, forse mai, ma sono veramente orgoglioso di avere un figlio come te. Lo vedo dai loro occhi, che sono veramente orgogliosi di me e dalle lacrime di mia mamma. Sicuramente non sono un tipo molto sentimentale, ma ora iniziano veramente a mancarmi tanto. Sorpresa! Eh, non te l'aspettavi, eh? Tanto hai detto, tanto hai fatto e guarda fino a dove sei arrivato. Mia sorella è la mia fonte di ispirazione. Mi ha insegnato che se nella vita non sogni, che cazzo vivi a fa? Stai a piangere? Stai già a piangere, eh? Mamma mia che piagnone! Senti, puoi vedere a tutti quanti che ragazzo speciale che sei. È una grande! Ti voglio tanto bene, mi manchi tanto e ricordati sempre. Rise up! Mia sorella è nata sognatrice. Lei fin da piccola voleva essere una cantante e ancora oggi fa la cantante. E io mi sento che se sono qua oggi è grazie a lei che mi ha insegnato a sognare. Chissà quante volte Chris sarai inciampato in questo periodo e ti sarai rialzato con forza. Allora quello che ti vogliamo dire adesso è pensa alla meta, pensa a ciò che vuoi raggiungere e non mollare, Chris. Noi siamo contenti. Volevo sentirmi dire queste parole dai miei genitori perché ho avuto la conferma che apprezzano quello che sto facendo qua. E a me non serve nient'altro. Ciao, Mia. Sono nonna. Sono contentissima di sentirti che sei arrivata fin qui. Io lo so che tu sei bravissima e quando ti metti in testa una cosa ce la farai io. Forza con la vita. Si va bene. Ti faccio un gran bocca al lupo, un appreccio, un tanto di saluto, un bacione a tutti. Ciao. Nonna Michelina è nonna Michelina. È l'abbraccio più bello che ci possa essere. Ciao, Tracine. Come sei? Don't be afraid, be corretto, stay focused. I know you will make us proud in Bocca Lupo. Forza! Forza! Forza Tracy! Forza Tracy! Forza Tracy! Forza Tracy!